Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come faccio i panini all'olio, super morbidi e super saporiti. Per farli vi occorreranno solamente 1 kg di farina 00, 4 cucchiaini di zucchero e 4 di sale, una bustina di lievito di birra disidratato, olio di oliva e acqua. Con queste dosi riuscirete ad avere un panetto perfetto per essere lavorato. Come sempre metto all'interno di una ciotola dell'acqua a temperatura ambiente insieme a del lievito, zucchero e olio. Micelo tutto usando un cucchiaio. Aggiungo la farina e il sale, impasto tutto con le mani. Una volta aver impastato energicamente l'impasto con le mani, questo è il risultato, e faccio lievitare fino a che raddoppia, in un luogo tiepido. Questo è il risultato dell'impasto dopo aver lievitato qualche ora. Per dare la solita forma del panino, divido l'impasto in più pezzi. Gli do una forma approssimativamente rettangolare utilizzando le mani, e successivamente vado ad arrotolarlo dal lato corto dell'impasto. Dopo aver dato la forma ai panini, li adagio all'interno di una teglia antiaderente o con carta da forno. Li faccio lievitare 30 minuti. A lievitazione completata, li spennello con abbondante olio di oliva, e li faccio cuocere in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti, o fino a quando sono ben dorati. Da come potrete notare, sono dei panini super morbidissimi. La ricetta di oggi è già finita, ma come sempre, ciao a tutti e alla prossima!